Un morto e più di 129 casi di positività al Covid-19. È un bilancio estremamente pesante quello comunicato dal sindaco di Torre del Greco Giovanni Palumba, che con una propria ordinanza ieri pomeriggio ha stabilito di tenere ancora chiuse le scuole in presenza fino al prossimo primo marzo. A perdere la vita, stanno a quanto riferisce il primo cittadino, è una donna di 58 anni. Si tratta della centunesima vittima da inizio pandemia. Sul fronte dei contagi, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 127 soggetti, il cui tampone è risultato positivo a fronte delle 15 accertate guarigioni. Supera a quota 800, attestandosi a 837 il numero degli attuali contagiati, 42 dei quali risultano ospedalizzati. A Torre Annunziata sono 17 i nuovi casi di contagio da Covid-19, a fronte di 113 tamponi effettuati. Al contempo si registrano anche 17 guarigioni ed il decesso di un uomo di 75 anni. Il rapporto tamponi positivi si attesta al 15,04%. Scende a 954 il numero di cittadini attualmente positivi, 948 posti in isolamento domiciliare e 6 ricoverati. Sono 87 i cittadini di Castellammare e Stabia risultati positivi al coronavirus. Tra i nuovi contagiati ci sono 8 piccoli tra i 2 e i 9 anni e 6 ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. Sono stati lavorati complessivamente 426 tamponi, 18 invece guariti, tra cui un bambino di 8 anni.